Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha chiesto di riconoscere la cittadinanza italiana ai figli degli immigrati, definendo una follia il fatto che molti bambini stranieri ancora non abbiano questo diritto. Ne aveva già parlato al Quirinale il 15 novembre, quando in occasione di un discorso per i 150 anni dell'Unità d'Italia aveva ricevuto un gruppo di ragazzi stranieri che devono aspettare fino a 18 anni per la cittadinanza, un tempo, secondo lui, troppo lungo per quelli che ha definito i nuovi italiani. Naturalmente il suo intervento ha suscitato le reazioni del mondo politico, come al solito ha diviso in due su problemi del genere, con la ferma opposizione della Lega, dove l'ex ministro Maroni parla di uno stravolgimento della Costituzione, mentre Calderoli dice di non voler passare dallo Ius Soli allo Ius Sanguinis, annunciando anche barricate nelle piazze e in Parlamento. Neanche il PDL vuole appoggiare la proposta del Capo dello Stato, invitato a non accelerare i tempi e, come dichiara Ignazio Larussa, a non forzare il nuovo governo Monti con questioni che sono fuori dall'agenda del Parlamento, o altrimenti anche loro si muoveranno su temi come la giustizia e le intercettazioni. D'accordo con le parole del Presidente sono invece il terzo polo il PD e l'Italia dei Valori. Dario Franceschini sottolinea l'importanza del tema e l'urgenza, anche da un punto di vista civile, di portare a termine questa riforma. Anche Casini condivide pienamente, trovando assurdo lasciare ancora molti bambini senza una cittadinanza. Da futuro libertà l'eurodeputato Potito Salatto sostiene il loro diritto di cittadinanza e annuncia che il proprio partito avvierà la raccolta firme per una petizione a riguardo. Mentre Gianfranco Fini ricorda di quando, ai tempi in cui faceva parte del PDL, sollevò la questione e fu definito un compagno. Oggi invece la situazione è cambiata. I sostenitori del Sì chiedono che le migliaia di bambini che frequentano le scuole italiane e i cui genitori lavorano e pagano le tasse, vengano riconosciuti con i quali diritti e doveri di tutti. Da parte sua napolitano è ottimista e si dichiara fiducioso verso un confronto sull'argomento, tenendo conto però di una situazione che a causa delle opinioni divergenti non si calmerà facilmente.